Bene, bene, è tosta, bella partita, equilibrata, siamo 1-0 per noi, un gol fatto da me. Si sentite l'esultanza prima. Si sentite l'esultanza perché è tutta sentita per lui. Quindi c'è l'emozione nel fare i gol, soprattutto come me che non è abituato alla rete. Quindi è doppiamente una soddisfazione, è doppiamente un merito per noi. È una bella partita, comunque è un'ottima partita, complimenti anche agli avversari. Bella partita, complimenti. Grazie.